queste sono le cascate oggi giovedì 6 novembre guardate è crollato un altro pezzo enorme di cascate questo è il frutto di 30 anni di abbandono di mancanza totale di interesse per questo posto qualunque cura e pezzo pezzo il fiume ce lo toglie e forse da un certo punto di vista fa anche bene perché non ci meritiamo questo posto guardate non esistono quasi più